Una sfida più che una provocazione è quella lanciata dal consigliere regionale dell'APIS in getta che a proposito di green economy e di sviluppo sostenibile ha proposto di convertire le royalties derivanti dall'estrazione petrolifera in baldagri in pannelli fotovoltaici. Un pannello solare in ogni casa potrebbe essere lo slogan cognato sulla precedente iniziativa che introduceva l'informatizzazione delle famiglie lucane, il cui intento è di favorire comportamenti attenti e responsabili verso l'ambiente. Non basta infatti limitare i fabbisogni energetici e la produzione dei rifiuti, ha detto l'esponente dell'API, ma occorre far di più. L'uso dei pannelli fotovoltaici ridurrebbe notevolmente i consumi di energia e consentirebbe di raggiungere elevati livelli di salvaguardia e compensazione ambientale. Operazione del forte impatto simbolico nella nostra terra, ha detto Singetta, i cui equilibri biodinamici sono stati alterati dalla preziosa risorsa.